Verso il voto per le amministrative del 9 e 10 giugno, presentati i candidati a sindaco nei 17 comuni agrigentini alle urne. Dario Piparo. Scaduto il termine per la presentazione delle candidature nei 17 comuni dell'agrigentino che torneranno alle urne. Sindaci e consigli comunali da rinnovare e i nomi in ballo coinvolgono vecchie e nuove figure della politica locale. A Licata tiene banco il caso legato ad Angelo Balsamo, che annuncia il rinnovo della sua candidatura a sindaco. A torno al legale, candidato per una lista civica, alcuni giorni fa è piombata un'indagine che sta condizionando la competizione elettorale. Balsamo è indagato per corruzione in atti giudiziari, falsa testimonianza e truffa, ma decide di andare avanti, ribadendo totale fiducia nei confronti della magistratura. Senza il PDL, però, partito per il quale ha ricoperto la carica di coordinatore cittadino. Il democratico Camilleri, Falzone, Fragapane e Mantia completano il quintetto, dal quale uscirà il successore di Angelo Graci. A Palma di Montechiaro è stata sciolta la riserva riguardante l'Ina Vizzini, sostenuta dall'area dorsiana e dal megafono. Giuseppe Lumia sarà l'uomo del 5 Stelle, al quale si aggiungono Pasquale Amato, Stefano Castellino, Rosario Bellanti e Gioacchino Sorrintano. A Ravanuse i contendenti saranno invece sei, come a Castrofilippo. Lotta due Ioppolo Giancaxio, con due Angelo a sfidarsi per la carica di rappresentante dei 1.229 abitanti della frazione. Il successore di Salvatore Lodico sarà Costanza, per la lista Uniti per Ioppolo, oppure Portella, per la lista Ioppolo un bene comune. Addirittura cinque contendenti a grotte, con l'uscente Paolo Pilato, che si troverà di fronte il cittadino 5 Stelle, Gasper e Bufalino, Paolino Fantauzzo, l'ex sindaco Giacomo Orlando e Francesco Vizzini, consigliere comunale, proprio come Fantauzzo. Burgio, Menfi, Lucca Sicula, Calamonaci, Cianciana, San Giovanni, Sambuca, Sant'Angelo, Santo Stefano e Alessandria della Rocca completano il quadro. Ognuno di questi paesi, dopo il voto del 9 e del 10 giugno, avranno un fresco assetto amministrativo.